Cosa hanno in comune Star Wars, Matrix e i film della Marvel? Pensiamo a un mosaico. È composto da tante tessere che, messe al posto giusto, ci offrono un racconto. Questa è la comunicazione transmediale, la narrazione transmediale. Il nostro sarà un vero e proprio percorso di sopravvivenza alla comunicazione digitale, in cui allenarsi a raccontare la propria attività, il proprio progetto, la propria professione, attraverso le piattaforme social e web, creando contenuti coinvolgenti, quindi utilizzando questi canali in modo coordinato e complementare. Sono Riccardo Milanesi, ci vediamo al corso di Digital e Transmedia Storytelling.